Un breve incontro carico di significato, quello che si è tenuto nell'auletta della Sala Nervi, prima dell'udienza generale, tra Papa Francesco e una delegazione di leader musulmani della Gran Bretagna, accompagnati dal cardinale Vincent Nichols, arcivescovo metropolita di Westminster. Nel saluto il pontefice ha parlato del lavoro più importante da fare, quello dell'orecchio, ovvero l'ascolto, perché quando si ascolta e si parla, ha affermato, già si è sulla strada. Ascoltarci, ascoltarci, senza fretta di fare la risposta, ricevere la parola del fratello, della sorella, e pensare poi dare la mia, ma la capacità di ascolto, questo è tanto importante. E' curioso, quando le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano a tono basso, tranquilli, invece quando non ne hanno, parlano forte e gridano pure. Fratelli, tutti noi vogliamo parlare, ascoltarci, parlare adagio, tranquilli, cercare insieme la strada. Grazie. 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 Grazie.